Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! Il celebre musicista e cantante brasiliano Sergio Mendes ci ha lasciato all'età di 83 anni. Conosciuto in tutto il mondo per aver portato la musica del suo paese alla ribalta internazionale con la celebre canzone Mas que nada, Mendes ha lasciato un'impronta indelebile nel panorama musicale. L'autore del grande successo internazionale Mas que nada ha lasciato un vuoto nel cuore di milioni di fan in tutto il mondo. La sua musica ha attraversato confini e generazioni, regalando emozioni e momenti indimenticabili a chiunque abbia avuto il piacere di ascoltarla. Sergio Mendes era un vero talento, un artista che ha saputo unire ritmi brasiliani e influenze internazionali in un mix unico e coinvolgente. La sua voce e il suo stile inconfondibile resteranno per sempre nella memoria di chi ha amato e apprezzato la sua musica. La scomparsa di Sergio Mendes lascia un vuoto incolmabile nel mondo della musica, ma il suo lascito artistico continuerà a vivere nei cuori di coloro che hanno amato e continuano ad amare la sua musica. La sua eredità musicale rimarrà un faro per le generazioni future, ispirando nuovi talenti e appassionando sempre più persone alla bellezza e alla magia della musica brasiliana. Sergio Mendes con la sua musica e la sua voce resterà per sempre un'icona della musica brasiliana e un simbolo di talento e passione per l'arte. La sua musica continuerà a risuonare nei nostri cuori e nelle nostre menti, regalandoci emozioni.